Benvenuti in Iron Annie. Il marchio Iron Annie è stato fondato nel 2012 da Jörg Schauer, un appassionato di orologi e di storia dell'aviazione. Schauer ha sempre avuto un grande interesse per gli orologi di alta qualità e per la storia dell'aviazione, e ha deciso di combinare queste due passioni creando un marchio di orologi ispirati all'aereo Junkers Ju-52. Il nome, Iron Annie, era il soprannome dato all'aereo Ju-52 da coloro che lo utilizzavano per trasportare merci e passeggeri in Europa. L'aereo era considerato un simbolo di un'epoca d'oro dell'aviazione, quando il trasporto aereo stava diventando sempre più importante per l'economia mondiale. Gli orologi Iron Annie si distinguono per il loro design vintage ispirato all'aviazione, che richiama l'aereo Ju-52. Ogni modello presenta dettagli unici, come i numeri grandi e ben visibili, le lancette luminose e i quadranti chiari e leggibili. Ma gli orologi Iron Annie non sono solo esteticamente belli, sono anche di alta qualità e affidabilità. Ogni orologio è dotato di un movimento al quarzo o automatico di precisione, resistente all'acqua e con una robusta cassa in acciaio inossidabile. Iron Annie offre una vasta gamma di modelli, tra cui il Flight Control, il Bauhaus e il Vintage. Ogni modello è stato progettato con cura per soddisfare i gusti di appassionati di orologi e di storia dell'aviazione in tutto il mondo. Ma i dettagli non sono solo estetici. Gli orologi Iron Annie sono anche molto funzionali e precisi. Ogni modello è dotato di un movimento al quarzo o automatico di precisione, resistente all'acqua e con una robusta cassa in acciaio inossidabile. In sintesi, Iron Annie è un marchio di orologi di alta qualità che prende ispirazione dall'epoca d'oro dell'aviazione. Ogni orologio Iron Annie presenta un design vintage ispirato all'aereo Ju-52, con numeri grandi, lancette luminose e quadranti chiari e leggibili. Se sei un appassionato di orologi e di storia dell'aviazione, gli orologi Iron Annie sono sicuramente una marca da tenere in considerazione.